Siamo con la biondissima Monica, buongiorno Monica. Buongiorno a voi. Al Moto Days 2015 sta per iniziare tra pochi minuti l'inaugurazione con Annalisa Minetti e Fabrizio Frizzi, ci saranno anche molti piloti famosi del Superbike e non. Monica, allora, giornata piovosa, tu di dove sei? Io sono di Badova, sono arrivata a Roma sperando di trovare il sole, ahimè, questa volta ho dovuto aspettare. Però il sole ci sarà, insomma, nei prossimi giorni. Per adesso io mi godo il tuo sole, il sole dei tuoi occhi e della tua bellezza. E tu, parlando di moto, vai in moto, motorini? Sì, però da particolare, non da conducente, per la gioia degli altri motociclisti. Perché al Moto Days c'è anche uno spazio per le biciclette, quindi almeno in bicicletta va. Quindi almeno lì ti dice, ho l'asso nella manica che posso sfruttare. Ci illustra il suo stand di cui è testimonial, possiamo dire, Moto Help. Esatto, noi siamo a Moto Help, quindi ci occupiamo di tutto il trasporto in tutta Italia, delle moto. E potete visitarci anche al sito www.motohelp.it E appunto, mi dicevi che con questo servizio la moto viene trasportata? Assolutamente sì, in sicurezza, esatto, e poi per i costi e tutte le varie informazioni ci potete appunto vedere la pagina dedicata sul sito. Bene, io mi eclisso e lascio la regia appunto a riprenderti. Ciao, grazie Monica.